Ciao, ti do ufficialmente benvenuto nel Crash Course di Excel offerto da SkillHackers. Io sono Alex e sono il Chief Coach di SkillHackers e per questa oretta sarò il tuo compagno di avventura in questo magico mondo di Excel. Prima cosa, questo Crash Course è appunto molto crash, quindi è molto veloce, molto denso, molto intenso indubbiamente, quindi non ti preoccupare se non segui di perdi, cose del genere, eccetera, normalissimo oserei dire. E soprattutto ricordati che, insomma, puoi stoppare e puoi fare quello che vuoi, quindi puoi rivedere quante volte vuoi. Soprattutto ti consiglio di scaricare il dataset che trovi in descrizione o comunque lo trovi in giro nel sito e di seguirmi, perché una delle filosofie in cui crediamo in SkillHackers è quella che solo ed esclusivamente facendo le cose riesci effettivamente ad imparare, nel nostro caso Excel. In questo caso Excel non partiamo esattamente da zero, perché a mio parere per il corso, cioè per partire da zero c'è il corso, ma partiamo da un livello già, diciamo, non basissimo, però comunque base, quindi se anche non hai mai visto Excel, io ti consiglio di fare questo corso proprio perché è una bella terapia d'urto, diciamo, cioè secondo me partire troppo lentamente poi uno si annoia, invece così fai una bella terapia d'urto e ti assicuro che puoi imparare le cose più facili, insomma, è molto più facile. Per la parte dell'EPV, per l'addendum dell'EPV, basta registrarsi gratuitamente al sito learn.skillhackers.it e la trovi un'altra mezz'ora solo ed esclusivamente sull'EPV. Quindi direi che possiamo iniziare con il nostro bellissimo crash course su Excel. Allora, una prima misconception che c'è sul mondo Excel è il fatto che le persone lo usano come una calcolatrice e questo è l'errore più grande che si può fare parlando di Excel, perché Excel non è una calcolatrice. Excel, e se tu sai già usare Excel, quello che sto per dire, sembrerà una bestemmia, ma in realtà è un database. Mille limiti, non va usato come database, eccetera. Però Excel ragiona come un database, di conseguenza lo dobbiamo trattare come tale. E questo è quello che ti farò vedere fino ad adesso. E io vedo che tutti i problemi che hanno i nostri clienti, ma anche le persone che seguono il corso, è proprio quello di trattarlo come una calcolatrice. E tutte le logiche che ha al suo interno Excel, che ci aiutano nello svolgere i compiti, sono pensate per i dataset strutturati come un database. Di conseguenza vedremo adesso che tutto quello che faremo sarà pensato in ottica database. Ma soprattutto, una delle cose che io sbagliavo tantissimo all'inizio della mia carriera, era quella di non riuscire ad entrare in questo mindset, proprio perché non avevo mai visto dati da un database. Ok, cioè se tu sei appena uscito dall'università, o dalle superiori, o comunque non hai ancora iniziato a lavorare, non vedrai mai i dati scaricati da un gestionale banalmente, quando invece quello è il 99% delle cose che dovrai fare nel mondo del lavoro. Di conseguenza, il dataset che ti ho mandato è quello proprio di un'azienda chiaramente fittizia, però sono i dati che ti troverai scaricati dal gestionale. Di conseguenza, quando il tuo capo, il tuo cliente, il tuo chissà che cosa, ti darà dei dati, ti darà dei dati formattati in questo modo. Come facciamo a capire se i dati sono formattati correttamente o non correttamente? Allora, ci sono tutta una serie di, diciamo, tips per farlo, però ti do intanto le principali, giusto perché questo è un crash course, no? Allora, il primo è che ci sono dei campi, ok? Quindi la parola campo è importante perché una tabella in un database è composta dai campi, ok? Quindi ogni colonna è un campo e un campo generalmente ha il suo interno, no? Valori tutti, cioè, omogenei, quindi in questo caso il tax rate avrà al suo interno solo tassi, solo tassi e, ad esempio, l'invoice date avrà al suo interno solo invoice. Se questa condizione non è rispettata, ecco che il dataset è fatto male e quello che diciamo nel mondo dell'analisi dati è shit in, shit out, ok? Quindi mi raccomando l'analisi dei dati. La seconda cosa che si sbaglia sempre è invece quella di mettere i campi in colonna. Cosa vuol dire? Che io ti giuro nel 99% dei casi quando un cliente mi manda un dataset le date sono messe così, quindi ho gennaio, febbraio, marzo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un errore perché questo qua, tutti questi campi qui, perché poi qua se tu ci pensi potrei mettere, sarebbero come dei campi questi qua, no? Perché se fossero delle vendite io ci metterai gennaio, qua metterai tutta la serie di gennaio, qua metterei tutta la serie di febbraio, eccetera, eccetera, eccetera. Però tutti questi campi potrebbero essere riassunti in un solo campo, nel nostro caso il campo data. Di conseguenza è sempre bene avere un solo campo per tipologia di informazione. Quindi ad esempio qua l'invoice date avrò un solo campo e non i vari mesi della stessa invoice date. Non è così banale da capire, però diciamo la cosa che ti devi portare a casa da questo primo pezzetto è che quando tu vedi i mesi spalmati in colonna vuol dire che c'è un problema. Così come se fossero ad esempio varie categorie di prodotto, vari agenti, vari qualcosa. Tutto quello che può essere messo in un'unica colonna, quindi le varie categorie di prodotto, quindi se hai, no, scarpe, magliette, eccetera, che sono categorie, puoi mettere tutto in un unico campo, il campo categoria prodotto o il campo categoria. Così come se ho il nome dell'agente, Marco, Fabio, Alex, Mattia, tutti questi possono essere messi in un'unica colonna, in un unico campo, che è il nostro campo agente, ok? Quindi questa è assolutamente la prima cosa e a mio parere anche la cosa più importante da portarsi a casa. Però io so benissimo che tu sei venuto qui per smanettare, di conseguenza iniziamo a smanettare, ok? Allora, come vedi questo qua è un dataset fatto bene, chiaramente lo so perché te l'ho mandato io. Quindi iniziamo a smanettare. La prima cosa che c'è da fare quando vediamo un dataset di questo tipo è metterlo in una tabella, ok? Non una tabella pv, ma una tabella normale. Perché? Perché vedremo che mettere i dati in tabella ha tutta una serie di vantaggi che vedremo, diciamo, nel corso di questo Crash Course. Però per adesso, diciamo, fidati di me e mettiamoli in tabella. L'unico caso in cui non va messo in tabella è se ci sono troppi dati, ok? Ma sto parlando di 200, 300, 400 mila righe, perché in tal caso rallenta un po' il file e appesantisce il file. In questo caso noi abbiamo esattamente 100 mila righe. 100 mila righe, secondo me, funzionano da Dio. Quindi facciamo il nostro... Anzi, facciamo o ctrl T, ok? Con la T di Torino. Oppure basta cliccare un punto qualsiasi del nostro dataset, cliccare su inserisci, tabella. E già qua vediamo che Excel un po' ha capito che stiamo parlando la sua stessa lingua, perché noi abbiamo selezionato un punto qualsiasi, ma lui ci ha già detto, ok, io ti prendo tutto l'intervallo dove ci sono i dati e ti prendo i dati, sono con delle intestazioni, ok? Quindi noi gli diamo ok e ha creato la nostra tabella. Perché tutto questo? Perché adesso quello che mi piace dire è che quando tu dici ad Excel sto parlando la tua lingua, sto parlando il linguaggio delle tabelle, lui dice, ok, ci capiamo, ci capiamo, ok? Quindi è come se fossimo andati in Spagna e anziché parlare italiano parliamo spagnolo. Cioè, proprio dire, ok, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cosa bisogna fare con le tabelle? Allora, la prima cosa è riformattarle, quindi su struttura tabella, quando noi selezioniamo un punto nella tabella, compare il tab struttura tabella, ok, e lo formattiamo. E questa è già un'altra cosa importantissima da sapere su Excel. Su Excel la struttura tabella, cioè gli stili di tabella, sono importantissimi, perché noi non vogliamo perdere tempo a andare a vedere i colori, non colori, eccetera. Noi vogliamo che tutti i colori siano sempre uguali. Di conseguenza, usando gli stili, vedremo che tutto il nostro foglio di lavoro viene bello omogeneo, corretto, con gli stessi colori, perché gli stili hanno sempre gli stessi colori. Quindi io consiglio caldamente gli stili. Quindi andiamo a selezionare lo stile che ti piace di più. Chiaramente a me piace questo blu, ma tu puoi scegliere quello che vuoi. E soprattutto diamo un nome alla tabella. Questa è un'altra informazione che sarà utilissima, ovvero dare il nome agli oggetti. Perché se tu non hai mai usato Excel, forse non lo sai, ma qui esiste l'intelligence, ovvero che quando io scrivo uguale in una cella, sto dando il comando ad Excel di scrivere una formula. In questo caso, quindi, se io ci metto ad esempio somma, e poi gli scrivo, in questo caso adesso si chiama ancora tabella 1, se io do dei nomi agli oggetti, poi li posso cercare all'interno dell'intelligence. Di conseguenza, questo rende molto più facile, più veloce e anche più bello da leggere le nostre formule. Ok? Quindi per uscire da una formula scritta, clicchiamo ESC e diamo il nome alla nostra tabella. Per dare il nome, clicchiamo in un punto qualsiasi della tabella, struttura tabella, e gli diamo qua il nome. Io do sempre il nome partendo con TB. Ok? Questo lo vedremo dopo il perché, ma banalmente rende più facile cercare gli oggetti all'interno dell'intelligence. Quindi io la chiamo TB e queste qua sono le invoices. Invoices, ok? Che in inglese sono le fatture, banalmente. Ok? Ultima cosa prima di iniziare a lavorare è togliere le griglie, perché a me queste grigliette qua dietro non mi piacciono per niente, rendono il foglio un po' più brutto, quindi facciamo un bel visualizza, griglia, e l'abbiamo tolto. Perfetto. Adesso abbiamo il nostro bellissimo file con tutte le cose del caso. Quindi, ultima cosa, direi, prima di partire, cambiamo un po' di formati, quindi selezioniamo Unit Price. Tra l'altro, vedi, questo è già un primo vantaggio delle tabelle. Io posso posizionarmi sopra a la testata, diciamo, di Unit Price, compare una freccetta nera che punta in giù, e mi fa selezionare tutta la colonna, senza che io debba scorrere. E soprattutto, se tu magari hai già utilizzato Excel qualche volta, sai che facendo Ctrl Shift giù, posso selezionare tutto quanto, però quello si blocca alla prima cella vuota. Questo qua invece prende tutto, anche se ci sono delle celle vuote in mezzo. Di conseguenza, già questo è una delle tabelle, dovrebbe farti innamorare. Io sono innamorato perdutamente delle tabelle. Quindi, abbiamo selezionato il nostro, la nostra colonna, e adesso andiamo nel tab Home, e gli diamo il formato dei soldi. Io ci tolgo anche le virgole, e facciamo la stessa cosa con tutti gli altri. Quindi io seleziono, come vedi, si possono selezionare anche più colonne allo stesso tempo, basta cliccare sulla prima, e poi spostarsi a destra. E quindi gli diamo ok. Io ci tolgo sempre le virgole, perché a me personalmente non piacciono. Se a te piacciono, chiaramente le puoi tenere. Adesso cominciamo con un po' di operazioni elementari. Ad esempio, calcolare le revenues. Ok? Perché noi abbiamo il prezzo, abbiamo lo unit price e la quantity. Ok? In realtà, extended price sarebbe, diciamo, il markup, se vogliamo. Quindi, facciamo quantity per unit price, più il tax amount. Ok? Questo, diciamo, è quello che il nostro capo, diciamo, ci ha detto, è le revenues. Ok? Quindi, inseriamo un'altra colonna nella tabella, perché per ogni riga dobbiamo aggiungere l'informazione, in questo caso, revenues. Ok? Quindi, tasto destro, sopra alla colonna J, inserisci. Ok? E questa è la bellezza delle colonne, delle tabelle. Cioè, io ho già, ho inserito una colonna, lui ha capito che la colonna è all'interno della tabella. Quindi, abbiamo colonna, questa qua la chiamiamo revenues. Revenues, che in inglese sarebbe tipo fatturato. E adesso possiamo scrivere la nostra formula. Ok? Quindi, ci mettiamo uguale. Questo dice ad Excel, non sto scrivendo un testo, ma sto scrivendo una formula. Quindi, tutte le parole che scriverò adesso sono parole chiave. Quindi, abbiamo detto che dobbiamo fare quantità per unit price. Basta cliccare sopra quantità e unit price. Diamogli ok, intanto. Diamogli ok. Allora, qual è la prima cosa che si nota? Che, se tu hai, di nuovo, già votato Excel, vedi che non ci sono le referenze normali. Quindi, non c'è, ad esempio, D2 per E2, ma ci sono quelle che si chiamano referenze strutturate. Ok? Questo vuol dire che all'interno della mia tabella, quando ho questa chiocciola davanti, significa che per ogni riga, lui mi prenderà il valore di questa riga, infatti no, quantity con la chiocciola ha evidenziato soltanto D2, e unit price con la chiocciola ha evidenziato soltanto D2. Ok? E adesso ci mettiamo, quindi andiamo alla fine della nostra formula, più tax amount. Ok? Tra l'altro dovrebbe venire lo stesso risultato. Ok, viene perfetto lo stesso risultato, ma noi per sicurezza l'abbiamo fatto. Ok? Questo, tra l'altro, ci dice che Excel segue, diciamo, l'ordine della matematica, quindi prima fa le esponenziali, poi fa le moltiplicazioni, poi fa le somme e le sottrazioni. Ok? Quindi tutto molto facile. Quindi questo qua è, diciamo, un primo elemento di Excel, no, che però è utilizzato un po' come una calcolatrice, quindi secondo me limitarsi a questo, ogni tanto bisogna farlo, indubbiamente, ma limitarsi a questo, diciamo, è un po' limitante appunto, no? Però vogliamo calcolare anche magari il costo primo del nostro, di ogni prodotto, ok? Perché, come vedi adesso questo, ha calcolato per ogni riga, ha calcolato il suo. Tra l'altro, con invio, vai in giù, ok? Shift, invio, vai in su, puoi muoverti anche con le frecce, ovviamente, ok? E con il tab, quindi quello con le due freccette così, vai a destra, e shift tab, vai a sinistra, ok? Io non sono un fan delle shortcut, personalmente però, ci sono certe che fa comodo sapere, così come F2, F2 di Firenze, E2, serve per entrare in modalità formula, ed uscire dalla modalità formula, quindi se io ad esempio sono su J4, e clicco F2, ecco che viene, torna, diciamo, la nostra, la nostra formula, ok? Quindi abbiamo scoperto, diciamo, come si fanno le operazioni, molto semplice. Calcoliamo adesso, diciamo, il costo, per ognuna di queste, per ognuna delle, delle celle, quindi, inseriamo un'altra colonna, tasto destro, sopra AK, inserisci, questa la mettiamo, cost, e cost, non è dato altro che, revenues, meno, line profit, ok? Tra l'altro, io, ti chiedo di soffermarti un secondo, a vedere la bellezza, delle referenze strutturate, perché, è assolutamente impossibile, non capire, anche per una persona esterna, ma anche per te del futuro, che cosa è ogni cella, ok? Quindi, in questo caso, vediamo, che c'è revenues, meno line profit, molto facile da capire, ma revenues, da che cosa è calcolato? A quantity per unit price, per tax amount, cioè, non serve nemmeno andare, a spostare lo sguardo, per vedere dove sono le celle, no? Perché poi, adesso ci sono tre campi, selezionati, quando poi ce ne sono dieci, diventa, diventa un problema, ok? Quindi, ci siamo, e queste, diciamo, sono le operazioni di base, se vogliamo, nulla di straordinariamente difficile. Adesso, però, ci spostiamo, diciamo, nel mondo delle date, ok? Le date creano sempre un po' di problemi, soprattutto ai novizi di Excel, no? Ma è soltanto perché non si sa come Excel ragiona con le date. Allora, molto semplice, le date per Excel sono dei numeri, ok? Esattamente, solo ed esclusivamente, dei numeri. Semplicemente, questi numeri vengono trasformati, ma solo a livello visivo, perché noi li possiamo vedere con del significato, ok? Quindi, nella sua essenza, questo 0101 2013, cioè per Excel non vuol dire niente, perché lui lo vedrebbe come 1 diviso 1, che fa 1 diviso 2013, che fa 0 virgola qualcosa, no? Per lui, questo non vuol dire niente, è soltanto un modo di visualizzare, che è per dare una mano a noi umani. Se io lo copio, da qualche parte, quindi CTRL C, e poi voglio vedere il valore, e basta, io faccio, tasto destro, sono nella cella, Q qualcosa, Q2, metto questo tastino con l'123, in questo modo lui mi incolla solo ed esclusivamente il valore che c'è sotto alla cella, senza eventuali formule, senza niente, senza formatazione, solo ed esclusivamente il valore. E vediamo che mi ritorna un valore 41.275. Perché? Questo è perché per Excel le date sono numeri, e in particolare questo 41.275 è il numero di giorni che passa dal 1 gennaio del 1900 al 1 gennaio del 2013. Quindi l'unità di misura, diciamo, della data, sono i giorni. Di conseguenza, se io ci faccio, ad esempio, più 1, più 3, più 5, più 9, più 12, aumento di 12 giorni. Quindi se io faccio questo valore qua, più 12, mi andrà a finire al 12 gennaio. E se voglio fare con le ore, allora mi basta mettere la virgola. Perché se un giorno vale 1, un giorno e 12 ore sarà 1,5. Un giorno, 12 ore e qualche minuto sarà la sua virgola predefinita. Di conseguenza, quando tu vedi un numero che è tra il 40.000 e il 44.000, sempre sulle orecchie, perché molto probabilmente questo è una data. Ok? Questa è un po' la regola, la rule of thumb delle date, ok? Qual è il problema delle date? Che gli anni sono complessi, perché ci sono gli anni bisestili, gli anni normali, le settimane, i giorni, i mesi da 31 giorni, da 30, da 28, cioè è un casino. Di conseguenza, a meno che non ci siano delle date fisse, cioè del tipo, dopo 7 giorni, tu sai che gli devi scrivere, anche se è domenica, ok? Allora puoi fare il più 7. Altrimenti, ci sono tutte le funzioni delle date che aiutano, diciamo, a risolvere il problema del 30.000, 31 giorni, non 31 giorni. Quindi, quando devi fare delle operazioni con le date, sempre cerca per la formula corretta, non la fare mai con le funzioni matematiche, perché è un disastro. Ok? Quindi, in particolare, facciamo, dopo l'invoice date, abbiamo ad esempio, no, l'order date, ok? Lo shipment date, shipment date, ovvero, la data di spedizione, ok? Quindi, noi abbiamo che per questa azienda, la data di spedizione, è ad esempio, dopo 14 giorni lavorativi, ok? dalla invoice date, ok? Quindi, quando loro mandano l'ordine, viene generata automaticamente la fattura, e dopo 14 giorni lavorativi, viene spedita. Perché dico lavorativi? Perché, se io avessi dopo 14 giorni secchi, ok? Io farei invoice date, più 14, bam, arriva il 15, ok, perfetto, ci siamo. Qual è il problema? Che il 15, come potrebbe essere qualsiasi giorno, magari è domenica, magari è una festività, magari è chissà che cosa, no? Di conseguenza, per quello che dicevo, che le funzioni, cioè, con le date, si usano sempre, diciamo, le funzioni, ok? Nel nostro caso, c'è la funzione, giorno lavorativo, ok? Quindi, in questo caso, selezioniamo, come vedi, per scrivere le formule, bisogna scrivere uguale, poi scrivere giorno lavorativo, e abbiamo il nostro giorno lavorativo. Anche qua, in questo crash course, vedremo pochissime formule, perché non ha senso vederne 200, vedremo le più importanti, ti insegnerò un po' come, eh, approcciare, diciamo, le formule, ma poi, quando ti serve una formula, io ti consiglio di googolare, perché googolare è una delle skill, fondamentali, soprattutto, nei nostri tempi, quindi, mamma google, ha sempre tutte le risposte, bisogna solo sapere, come chiederle, anzi, io penso che, non avrei una carriera, se non fosse per mamma google. Quindi, abbiamo il nostro giorno lavorativo, e allora, ci dice, data iniziale, quindi, la data da cui parte, diciamo, l'aumento dei giorni, che è il nostro invoice date, come vedi, qua ci sono diversi argomenti, ok? Quindi, io faccio, punto e virgola, e adesso, passa al secondo argomento, come vedi, da grassetto, dalla data iniziale, che prima era in grassetto, è passato a giorni, ok? Adesso, lui mi chiede, quanti giorni, devo aumentare, la nostra, invoice date, e abbiamo detto, 14 giorni lavorativi. L'ultimo argomento, come vedi, è tra parentesi quadro, e vuol dire, che è opzionale. In questo caso, dovresti andarti a vedere, su google, che cosa puoi mettere, nelle vacanze, perché personalmente, neanche io lo so, so solo che, mettendo vari numeri, quindi, 1, 2, 3, 4, 5, puoi cambiare, il tipo di vacanze, quindi puoi mettere, le vacanze, solo la domenica, sabato e domenica, venerdì e sabato, con domenica che si lavora, che è quella per, per gli arabi, quindi, ci sono un sacco di cose, noi teniamola normale, quindi addirittura, non lo mettiamo, e ci siamo. Come vedi, è cambiata la data, perché ci ha tenuto in considerazione, dei weekend, quindi adesso, la shipment date, è il 21, dello 0, le date sono molto belle, se c'è la formula, per fare quello che vogliamo noi, se non c'è la formula, molto raro, ma se non c'è la formula, è un bagno di sangue, ok? Purtroppo è così. Aggiungiamo un'altra colonna, per la data di pagamento, quindi, payment date, ok? Anche qua, sono tutte informazioni, che io sto palesemente inventando, però, è il caso, che è il vostro capo, o il tuo cliente, o chi che sia, che ti dirà, le cose da fare, oppure no, la legge per dire, quindi, payment date, allora, abbiamo detto, anzi non abbiamo detto, che la mettiamo, alla fine, del mese successivo, alla shipment date, ok? Questa è una cosa, molto comune nel modo del business, 60 giorni, fine fattura, o, due mesi, fine fattura, fine mese, tutte queste cose qui, ok? Anzi, facciamola così, facciamolo, 60 giorni, fine mese, perché è una cosa proprio, standard del mondo lavorativo, vuol dire che, da quando arriva la fattura, devi aspettare la fine del mese, e poi aggiungere 60 giorni, ok? In questo caso, sono 60 giorni non lavorativi, sono proprio 60 giorni, ok? Quindi, la cosa difficile qui, è arrivare a fine mese, ok? Perché noi abbiamo l'invoice date, e dobbiamo arrivare, in questo caso, al 31, 12, quindi, facciamo prima questo pezzo, quindi, ci mettiamo uguale, e qua siamo fortunatissimi, perché c'è proprio la funzione, fine mese, ok? Quindi, noi ci mettiamo fine mese, anche qua, come vedi, data iniziale e mesi, quindi, data iniziale, è il nostro invoice date, tra l'altro, piccola cosa, se clicchi nella cella, non nella stessa riga, ti dà, tra virgolette, un errore, nel senso che, non ti dà la referenza strutturata, ti dà, l'indicazione della cella, e di conseguenza, poi non fa i calcoli automatici, perché se tu hai visto, noi non abbiamo mai dovuto, trascinare giù le cose, perché la, una tabella, calcola automaticamente, quella formula per tutte le righe, perché sa, che la devi calcolare per tutte le righe, se tu invece, la fai con le referenze normali, allora dice, ah ok, non so bene cosa stai facendo, quindi non te la calcolo per tutte le righe, ok, però noi lo vogliamo, quindi facciamo invoice date, punto e virgola, numero di mesi, se io metto 0, mi porta a fine mese, se io metto 1, mi porta a fine mese successivo, 2 a 2 mesi successivi, eccetera, quindi io voglio 0, e adesso, chiaramente, eccolo qua, prima, come si dice, inghippo, però noi vediamo che è un 41.000, ok, questa è una data, quindi basta formattarlo come data, e ci siamo, quindi, selezioniamo l'intera colonna, ok, andiamo nel nostro tab home, ok, e selezioniamo, data in cifra, e come vedi, adesso ci ha portato al 31.01, dobbiamo però aggiungere i 60 giorni, di conseguenza, noi sappiamo che, per aggiungere 60 giorni, o, facciamo, no, giorno lavorativo, con questo pezzo qua, come primo argomento, perché questa qua è la data, da cui voglio aggiungere i giorni, oppure, semplicemente, in questo caso, facciamo alla fine, più 60, ok, quindi ci porta all'1.04, queste sono le date, qual è la cosa più importante da ricordarsi delle date? che ragionano esattamente come dei numeri, per Excel le date non esistono, esistono soltanto numeri che vengono visualizzati in maniera diversa, cioè io potrei anche avere un numero 200 milioni, convertirlo in data, ed Excel semplicemente calcolerebbe, mi sembra che possa arrivare al 9999 come anno, però se non supera il 9999, lui lo calcola tranquillamente, ok, quindi questa è la grande, diciamo, cosa da sapere. Adesso, facciamo, entriamo nel mondo delle stringhe, perché noi abbiamo visto, no, le operazioni matematiche, che sono facilissime, le date, che in realtà, non sono difficilissime, e adesso entriamo nel mondo delle stringhe, perché le stringhe, ovvero il testo, cioè elaborare il testo, quindi andiamo nella nostra tabella, Customers, ok, facciamo un pochino di zoom, ok, e adesso, andiamo ad elaborare un po' di cose, dai customer, perché questo è proprio quello che capita spessissimo nel mondo del lavoro, cioè, ti arrivano dati, che fanno oggettivamente schifo, e quello che dobbiamo fare noi è elaborarli. Cosa importante però, allora, vanno elaborati sempre in maniera dinamica, perché, io, se non avessi troppi dati, ok, qua, avrei potuto anche farlo manualmente, ok, metti che avessi 30 dati, ok, 30, ci metti poco, li puoi fare manualmente, ma facendolo così in maniera dinamica, quando poi io aggiungo altri dati sotto alla tabella, vengono caricati automaticamente, calcolati automaticamente, di conseguenza, la dinamicità, richiede un po' più tempo, perché adesso, a parte che erano, c'è le formule abbastanza semplici, ma soprattutto te l'ho detto io, quindi è troppo facile, però generalmente, fare le cose in maniera dinamica, richiede un po' più tempo, che però poi viene sempre risparmiato, quando è ora di aggiungere nuovi dati, io ti assicuro che, fare le cose in maniera dinamica, paga, paga sempre, ok, quindi, andiamo nel nostro customer, e, facciamo lo stesso discorso, anche qui, i dati sono in formato tabellare, cioè abbiamo qua le nostre testate, abbiamo qua dei valori, vediamo un po' quanti valori sono, sono 664 valori, questi sono, è chiaramente una tabella di anagrafica, un po' più piccola, quindi possiamo tranquillamente, elaborarla, anche qua, la mettiamo in tabella, quindi, tasto, cioè selezioniamo un punto a caso del nostro dataset, ctrl T, ok, oppure poi inserisci tabella, anche qua ci ha preso correttamente il range, ci mettiamo il flag su tabella con intestazioni, e gli diamo ok, ok, facciamo lo stesso lavoro, io sono fanatico del blu, chiamiamo questa tabella, TB, questa è customers, ok, e ci togliamo, la griglia, e siamo pronti, ok, allora, questa qua, questo dataset, è il dataset di un'azienda di giocattoli, ok, e come vedi, ci sono, diciamo, dei vari tipi, se vogliamo, di cliente, cioè c'è quello che si chiama tailspin, c'è quello che si chiama wingtip, e ci sono anche dei clienti, tra virgolette, normali, che hanno nomi, nomi normali, ok, e noi vogliamo categorizzare, in tre, i clienti, quindi, che potrebbero essere, no, i clienti tailspin, oppure wingtip, oppure mettiamo, ad esempio, esterni, ok, quindi, come facciamo? Aggiungiamo, ovviamente, una colonna, e ci mettiamo, categoria, categori, perché siamo tutti in inglese, ok, quello che dobbiamo fare, è estrarre, diciamo, questo primo pezzo, da, la colonna customer, cioè noi vogliamo estrarre, tailspin toys, da questa stringa qui, ok, e useremo le funzioni di elaborazione, delle stringhe, che sono destra, sinistra, e stringa estrai, ok, quindi, sinistra, prende, un certo numero di caratteri, a partire da sinistra, destra, prende un certo numero di caratteri, a partire da destra, mentre stringa estrai, estrarre dei caratteri, dall'interno della stringa, ok, più facile a farsi che a dirsi, quindi, facciamo adesso ad esempio, sinistra, come vedi, mi dice, testo, quindi, da che testo, vuoi estrarre, un pezzo di, di stringa, e noi diciamo, customer name, punto e virgola, numero di caratteri, ci dice, il numero di caratteri, da estrarre, ok, supponiamo che adesso sia 5, anche se chiaramente, non è 5, e ci ha estratto, il nostro, tails, ok, che sarebbero i primi 5 caratteri, di questo, di questo, di questo elemento, quindi, abbiamo tails, dopo qua, avremo una nada, joel, bla 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 bla, e poi, avremo wingt, che è quello di wingtip, ok, però adesso, noi vogliamo fare, diciamo, la categoria, quindi, vogliamo estrarre, diciamo, tutto quello, che c'è prima, del, punto, della, della, della parentesi, ok, perché, perché potrebbe essere, che, io, io potrei mettergli tranquillamente, se, parte con, tailspin, allora è tailspin, se parte con wingtip, è wingtip, altrimenti, bla bla bla, ok, anzi, facciamolo con la versione statica, ok, e dopo vediamo la bellezza, di farlo con la versione dinamica, ok, quindi, io potrei dirgli, se, ok, non so se mi hai fatto, se mi hai visto, non le condizionali, però, il se, dice praticamente, che, se una condizione, è rispettata, allora, ti ritorno un valore, altrimenti, te ne ritorno un altro, quindi, se noi, gli diciamo, se, sinistra, del customer name, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi, facciamo 8, quindi, se i primi 8 caratteri, da sinistra, del customer name, sono uguali a, ok, e mettiamoli tra virgolette, tailspin, ok, perché ho messo le virgolette, perché sto dicendo, ad excel, guarda che questo, è un testo, non lo devi trattare, come una formula, questo se, non ha le virgolette, ed è una formula, questo sinistra, non ha le virgolette, ed è una formula, questo customer name, non ha le virgolette, infatti è una formula, è un riferimento ad una cella, 8 è un numero, tailspin, è invece proprio un testo, ok, proprio un testo, una stringa, quindi, se i primi 8 caratteri, del nostro customer name, sono tailspin, allora, mi metti la categoria, quindi, punto e virgola, categoria, chiamiamola, sempre tra virgolette, perché gli sto dicendo il testo, gli diamo, tailspin, toys, altrimenti, mettiamogli, tra virgolette, no, ok, cioè quindi, se è tailspin, mi ritorna tailspin, altrimenti no, ok, quindi, ti faccio rivedere la formula, però, che cosa sta succedendo, lui, riga per riga, va a vedere, se i primi 5, i primi 8 elementi, sono tailspin, e se lo sono, mi ritorna, tailspin toys, altrimenti, mi ritorna, no, tipo in questo caso, abbiamo wingtip, quindi, eh no, e qua abbiamo proprio dei nomi, di conseguenza, eh no, ok, quindi, adesso, ci aggiungiamo la stessa condizione, per, wingtip, ok, quindi, abbiamo se, sinistra, tailspin, bla bla bla, quindi, copiamo, se, sinistra, customer name, ok, e lo mettiamo, all'interno del nostro set, quindi, lui che cosa fa con i se concatenati, calcola la prima condizione, quindi, c'è sinistra, è uguale a tailspin, se sì, allora ti ritorno tailspin, e chiudo, non devo più calcolare niente, se no, se falso, come vedi, siamo nel terzo argomento, se falso, allora faccio delle altre cose, e nel nostro caso, calcolo un altro se, ok, quindi adesso, mi dice, non era tailspin, ok, era qualcos'altro, e lui dice, ok, adesso fai un altro check, se, sinistra, vediamo quanto è, wingtip di lunghezza, quindi è, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi facciamo 7, se, sinistra customer 7, è uguale, virgolette, wingtip, ok, punto e virgola, quindi, occhio che adesso siamo all'interno di un altro se, quindi adesso gli devo dire, se questa condizione è rispettata, allora mi ritorni, wingtip, toys, punto e virgola, altrimenti, quindi, se falso, mi ritorni, terzi, ok, quindi lui che cosa fa? Valuta, se sinistra, è tailspin, e se sinistra è tailspin, dice, ok, è tailspin toys, chiudiamola qua, se non lo è, entra, sì, stai buono, stai buono, se non lo è, entra nel secondo se, e dice, ma customer name 7, è uguale a wingtip? Se sì, wingtip toys, sbagliato, se sì, è wingtip toys, altrimenti, è terzi, ok, ok, bisogna chiudere due parentesi in fondo, va bene? quindi abbiamo qua, che lui trova tailspin, quindi interrompe immediatamente, e dice, ok, è tailspin toys, quando invece dice, ok, non è tailspin, però è wingtip, quindi, ok, è wingtip, altrimenti, se non è nessuno di due, ti dice, ti ritorno un terzo, ok, però questo, diciamo, abbiamo visto, no, i se, e, le stringhe strae sinistra, eccetera, però secondo me, non è il modo migliore, per estrarre, diciamo, per risolvere questo problema, perché se io qua, ad esempio, ci aggiungessi un altro, eh, provider, quindi, eh, pretzel toys, ok, lui mi darebbe terzi, anziché estrarre pretzel toys, che è sempre, diciamo, su questa falsa riga, qui, quindi, mettiamo questa qua, la chiamiamo category static, ok, quindi facciamo, static, e adesso facciamo, diciamo, un trucchetto, che è, category, dynamic, di, dynamic, non so se si scrive così, con la y, mi sa, dynamic, perdonatemi per il mio inglese, forse, sono più bravo in Excel, che in inglese, ok, perfetto, allora, adesso, bisogna fare un po', un ragionamento, di livello successivo, perché, cos'è che devo estrarre, da questo customer name, io devo estrarre, tutto quello, che è prima, della parentesi, ok, perché vedi, qua ci sono tutte le parentesi, che è proprio, un format di questa azienda, ovviamente, no, quindi, e anche per i wingtip, quindi, io gli dico, tu mi estrai, a prescindere, tutto quello, che c'è prima, della parentesi quadra, della parentesi tonda, quindi, in tal caso, se anche ci sono, 240.000, tipi di provider, tipo, no, pretzel toys, alex toys, excel toys, eccetera, me li tira fuori tutti, se invece, diciamo, se tu non trovi, la parentesi tonda, perché nel caso, in cui ci sono, proprio, dei nomi specifici, no, non c'è la parentesi tonda, se invece, non trovi la parentesi tonda, vuol dire che sono, dei terzi, ok, e quindi, capisci che, primo, già qua, a dover gestire, due, casi, si diventava matti, perché abbiamo dovuto mettere, no, due, e se concatenati, pensati potenzialmente, dovremmo mettere 10, o 100, diventiamo tutti scemi, no, con la categoria dynamic, invece, possiamo aggiungere, tutte le categorie che vogliamo, e a noi non cambia niente, ok, la prima cosa da fare, è scoprire, come si trova, il, la parentesi tonda, ok, come si trova, un elemento, all'interno di una stringa, anche qua, c'è una bellissima funzione, che si chiama, ricerca, ricerca, richiede all'inizio, il testo, insomma, è il primo, è il dopo, vediamo se questa volta faccio giusto, quindi, dove devo cercare, il testo, quindi lo devo cercare, su customer name, cosa devi cercare, all'interno di customer name, e io gli dico, la parentesi, ok, ok, non l'ha trovata, perché, quando vedi valore, vuol dire che non l'ha trovata, per un semplice motivo, che, prima va a cosa devo cercare, e poi all'interno di cosa, lo devo cercare, ok, quindi vai prima davanti a ricerca, ci mettiamo, virgolette, customer name, e adesso, mi dice, la posizione, in cui è, la, parentesi, perché è importante, metterla così, perché, su wingtip, la posizione cambia, ok, chiaramente, su, nada, mi ha dato un errore, non è un problema, per adesso, ok, però, qua, mi ha trovato la posizione corretta, ok, di conseguenza, adesso, possiamo utilizzare, la funzione, sinistra, per dirgli, estraimi esattamente, 15 caratteri, dal customer name, ok, in realtà, piccola tip, da, da professionista, io, se gli dico, estraimi 15 caratteri, mi estrae anche lo spazietto, che c'è, dopo toys, e allora, io gli dico, anziché, cercare la parentesi, mi cerchi, spazio parentesi, quindi adesso mi cerca, diciamo, la combinazione di entrambi, e adesso lui, mi estrae, 14, elementi da qua, che sono esattamente, tailspin toys, quindi andiamo qui, e adesso, utilizzeremo, questo pezzo qua, che mi ritorna, il valore, 14, all'interno, della funzione sinistra, ok, perché adesso, noi sappiamo, abbiamo già imparato, che la funzione, sinistra, riceve come primo argomento, un testo, e io so perfettamente, che è customer name, e come secondo argomento, quindi punto e virgola, riceve, il numero, di caratteri, ma io so già, che questa funzione qua, che io ho appena calcolato, mi ritorna a 14, quindi, basta che ci metto, la chiusa in parentesi in fondo, e mi estrae, tailspin toys, ma soprattutto, qua mi estrae, wingtip toys, qua mi da un errore, ma adesso ci gestiamo l'errore, ma se alla fine, io vado a fare, dov'è che era quello, che avevo creato io, no, abbiamo pretzel toys, che sta a, a Milano, ecco, che mi estrae, pretzel toys, e se io ne aggiungessi un altro, che è, alex toys, a, a Vicenza, perché io sono, vicentino, ecco, che mi estrae, correttamente, alex toys, ok, l'ultima cosa che dobbiamo gestire, è, questi errori qui, ok, che sono proprio brutti, in realtà, noi vogliamo gestire, che ci scriva terzi, al posto di, quando non vede, la parentesi, perché vuol dire, che non sono, diciamo, dei, dei big companies, ok, non sono, di queste categorie, di conseguenza, come facciamo, beh, andiamo qui, facciamo F2, per entrare noi, in modalità formula, ed utilizziamo, una funzione, bellissima, che si sposa, tantissimo, con, con questo tipo, di situazioni, il se errore, ok, il se errore, prende, come primo argomento, una formula, diciamo, un valore, la calcola, e se, non è errore, allora mi ritorna, quella funzione lì, no, cioè se lui, prova a fare il calcolo, e trova wingtip toys, dice, ok, nessun problema, non è un errore, ti ritorno, wingtip toys, ma se invece, trovo un errore, quindi io vado alla fine, ci metto, punto e virgola, valore se errore, e adesso io ci metto, virgolette, terzi, quindi, lui adesso, mi dice, io ti calcolo, quello che tu mi, quel formula lì, che tu mi hai messo, se, è corretto, nessun problema, zio, lo facciamo, se non è corretto, invece, ti ritorno, quello che mi hai messo là, quindi a volte magari, è not available, a volte è, non lo so, non ho i dati, nd, eccetera, ma noi qua sappiamo perfettamente, che se io non trovo la parentesi, allora diventa terzi, ok, e adesso, guardate, guarda che spettacolo, è tutto, perfetto, per vedere se ci sono ancora degli errori, io ti consiglio di andare sempre nel drop down, qua come vedi, ci sono tutti i valori univochi, univoci chiaramente, e non ci sono problemi, altrimenti qua, è sempre bene, diciamo, andare un po' a vedere che cosa sta succedendo, ok, altra cosa, fondamentale, nel mondo di Excel, è il cercavert, come vedi, stiamo andando, veramente a manetta, però è perché è un crash course, no, quindi, poi nel corso invece quello di Skill Huckers, non è un'ora, sono dieci ore, si va molto più nel dettaglio, si spiega un po' meglio i ragionamenti, però appunto, uno è un crash course, uno è un corso, no, quindi andiamo, allora, adesso vediamo il cercavert, ok, che cos'è il cercavert, che è una cosa che tutti, non lo so, piovono dal cielo, quando vedono il cercavert, ok, allora facciamolo, non farlo anche tu, seguimi semplicemente, quindi abbiamo Alex e Marco, e abbiamo qui, Alex ha 50 euro, Marco ha 100 euro, ok, il cercavert, prende un valore, quindi, supponiamo che io voglio sapere Alex, quanto ha guadagnato, ok, qua c'è il guadagno, voglio sapere Alex, quanto ha guadagnato, quello che fa il cercavert, è che va a cercare Alex, all'interno di questa tabella qua, che chiamiamola una tabella, anche se è un 4x4, un 2x2, va a cercare Alex, nella prima colonna della tabella, quando lo trova, si ferma, e mi ritorna un valore, sulla stessa rega, che voglio io, ok, quindi potrei avere guadagno, ma potrei avere qua, non lo so, tipo la categoria, io sono un cliente gold, Marco è un cliente premium, quindi potrei vedere, anche magari, o che guadagno, o che categoria ho, ok, quindi, più facile a farsi, che a dirsi, come funziona il cercavert, scrivo cercavert, ok, questa è proprio, una funzione fondamentale, nel mondo del lavoro, assolutamente fondamentale, cercavert, il valore che devo cercare, il primo argomento, è il valore, che devo cercare, quindi, io devo cercare Alex, ok, punto e virgola, il secondo valore, il secondo argomento, è dove, lo devo cercare, e io lo devo cercare, all'interno, di questa tabella, barra matrice, ok, è importante, selezionare, tutti, gli elementi, della tabella, quindi, se io devo andare a cercare, la seconda colonna, o la terza colonna, questi argomenti, devono essere compresi, all'interno, della matrice tabella, ok, non li posso, non posso selezionare, solo la colonna dove cercare, ok, devo selezionare, tutto quanto, punto e virgola, indice, è, l'indice di colonna, che deve ritornare, quindi, lui mi dice, ok, io ti ho trovato Alex, è nella prima riga, perfetto, che colonna vuoi che ti riporto, posso riportarti, o la prima, però, ti torna Alex, semplicemente, o la seconda, e ti ritorna 50, o la terza, e ti ritorna gold, ok, quindi, io adesso gli metto, trovami la terza, ok, poi c'è, corrispondenza, vero e falso, falso è, diciamo, per gli intervalli, per i numeri, non lo vedremo, perché non è inerente al crash course, per le stringhe, quindi, corrispondenza esatta, è sempre falso, ok, quindi tu nel dubbio, nel 99% dei casi, lo utilizzerai con il falso, quindi tu usalo con il falso, ok, e vediamo che adesso, mi ha trovato gold, ok, che tu mi dici, vabbè, carino, niente di che, però, primo, è dinamico, quindi se io qua ci scrivo Marco, mi ritorno a premium, se qua ci scrivo Alex, mi ritorno a gold, e soprattutto potrebbe essere che, ci sono, 200.000 risultati, e lui, mi trova esattamente, quello di cui ho bisogno, ok, questa è, la prima funzionalità del cercavert, quindi, è, una funzione, che ti aiuta proprio a cercare, all'interno di un certo range, delle informazioni, che ti servono, sulla base di, un dato di input, in questo caso, del nome, ok, e questo, ci siamo, però, noi lo utilizziamo, da veri esperti, diciamo, del mondo database, lo utilizziamo, per portare, all'interno di questa tabella, degli altri elementi, ok, perché, perché, nella parte di tabelle pivot, vedremo che noi possiamo fare, delle analisi, solo sulla base, del numero di campi che abbiamo, quindi, perché abbiamo continuato ad aggiungere campi, perché, nelle tabelle pivot, più campi abbiamo, più l'analisi può essere approfondita, banalmente, se io non avessi, la shipment date, non posso calcolare, no, la media, del tempo di spedizione, che è un'informazione importante, che potrebbe essere utile, oppure la media del tempo di pagamento, oppure, no, le revenues, oppure i cost, quindi, più campi ho, più posso fare, delle analisi dettagliate, adesso, utilizzeremo il cercavert, per portare, nella nostra tabella principale, delle, a degli attributi, di altri, di altre tabelle, quindi, ad esempio, io qua, ho il customer ID, che è interessante vedere, no, ogni customer, quanto ha speso, quanto ha venduto, bla bla bla, eccetera, però, è anche interessante, visto che l'abbiamo appena calcolato, vedere, la categoria, di clienti, quanto ha venduto, e quanto non ha venduto, oppure, il tipo, di prodotto, no, cioè, quante USB ho venduto, io non voglio vedere solo USB, flash drive, su Cirol, voglio vedere, tutte le USB, così come, non voglio vedere, no, tailspin toys, ed office, cioè, va bene, però, voglio vedere anche, tutta tailspin, quanto ha venduto, quanto ha fatturato, qual è il tempo medio, eccetera, eccetera, e questo, lo si fa, con, il cercavert, quindi, andiamo a inserire, un'altra colonna, inserisci, e adesso, ci mettiamo, categorie, ok, uguale, allora, abbiamo cercavert, perché, perché noi, per ognuna di queste righe, dobbiamo dirgli, prendimi, 803, aspetta che ti faccio vedere prima, prendimi 803, mi vai a cercare 803, all'interno di questa tabella, ok, della tabella customers, e mi ritorni, quello che c'è scritto su, category dynamic, della stessa riga, ok, questo è proprio, un esempio classico, che si fa sempre, ok, quindi, io mi aspetto che lui vada su, 803, che è tipo, qua, ok, vada qua, e mi ritorni, il valore terzi, perché quell'acquisto lì, si è fatto da bala di exit, però, non mi interessa sapere, quanto ha acquistato, questo bala, penso sia un nome da donna, forse, questa bala di exit, ma voglio sapere, no, i terzi in generale, quanto contribuiscono, alla mia azienda, quindi, andiamo su, invoices, category, ci mettiamo, cercavert, il primo valore, e il valore da cercare, quindi, io voglio cercare, custom ready, perfetto, punto e virgola, dove lo voglio cercare, e adesso, torna utile, il nostro bellissimo tb, che abbiamo utilizzato, all'inizio, quando abbiamo creato le tabelle, perché se io scrivo tb, nell'intelligence, lui mi dà la lista, di tutte le tabelle, che abbiamo creato, senza che io mi debba ricordare, il nome o il cognome, cosa importante, adesso sono due, e va bene, ma se io avessi, 10, 20, 30 tabelle, ecco che, diventa un problema, invece noi adesso, abbiamo già, tb customers, ok, dove, in che colonna è, l'informazione, che a noi ci serve, è nella quarta, prendiamo quella dinamica, perché quella statica, non va mai bene, ok, anche se il risultato, è chiaramente uguale, e adesso ci mettiamo, falso, ok, e vediamo che, con 803, ci è ritornato, correttamente terzi, andiamo a vedere, 105 customers, 105, cioè, per andare su veloce, basta fare control su, così, arriva in fondo, 105, tailspin toys, perfetto direi, quindi ci siamo, quando si fanno i cercaverti, soprattutto su tanti elementi, è sempre bene vedere, se ci sono degli errori, ok, perché se ad esempio, io questo lo mettessi, 1803, che non c'è, nella nostra tabella di partenza, avrei questo nd, vuol dire, non ho trovato 1803, nella tabella di partenza, e quindi, in questo caso, possiamo utilizzare, il se errore di prima, e dirgli, guarda, se errore, quindi se tu non lo trovi, nella tabella di partenza, mettimi ad esempio terzi, oppure mettimi, not available, oppure mettimi quello che vuoi, però noi qua ce l'abbiamo, torniamo ad 803, e ci siamo, e adesso, la cosa bella, no, è che noi possiamo fare proprio, questo genere di, di calcoli, quindi possiamo, vedere terzi, quanto hanno venduto, telespin toys, quanto hanno venduto, eccetera, e adesso infatti, cominciamo, cioè cominciamo, facciamo la parte forse, più divertente, ovvero, ma, st'azienda, fattura o non fattura, si guadagna o non si guadagna, e quindi, adesso, è anche la cosa, che secondo me, interesserebbe di più, a un capo, quindi ad esempio, ci mettiamo qua di fianco, magari se dobbiamo mandare il file al capo, lo manderei, cioè, lo creerei in un foglio nuovo, ma noi adesso, diciamo che ci va bene così, ok, quindi, anche qua, a me piace mettere, no, magari un titolettino, mettere un po' bellina, la parte di, eh, visualizzazione, ok, cioè quello che deve vedere il nostro capo, e, non c'è nulla di meglio, degli stili, ok, mai, e poi mai, andare a modificare, i colori qua, perché con gli stili, siamo sicuri, che è tutto sempre uguale, vedi che il colore, è esattamente uguale, non ho nessuna sbatta, cioè, facciamo sempre così, quindi mettiamoci qua, non so, analisi, analisi dataset, ok, perfetto, io lo metterei in bold, così, è un po' più, simile, se vogliamo, ok, perfetto, quindi, partiamo dalle cose semplici, quindi facciamo, somma, quindi mettiamoci qua, eh, totale, revenues, ok, per fare il totale revenues, basta fare, somma, ok, funzione più banale del mondo, ok, e ci mettiamo, allora possiamo, o selezionare, la colonna revenues, in questo modo qui, oppure, se noi ad esempio, siamo in un altro foglio, e non vogliamo stare qua, a sbatterci troppo, con tb invoices, non tb invoices, eccetera, io basta, ci posso scrivere qua, tb invoices, ci metto l'invio, mi ha selezionato, tutta la tabella, apro quadra, vengono fuori, la lista di tutti i campi, quindi non devo neanche ricordarmelo, cioè, bellissimo, vado su revenues, chiudo quadra, e adesso, come vedi, mi ha selezionato, solo la colonna revenues, di conseguenza, lui mi calcola, tutto quanto, ok, quindi, gli do così, e mi fa, totale revenues, 93 milioni, possiamo vedere, ad esempio, la media, dei revenues, anzi, facciamo la media della quantità, quindi, quanto è l'ordine medio per la nostra azienda, quantità, molto semplice, media, molto facile, come vedi qua ci sono tipo 200 tipi di medie, tu puoi usare quella che vuoi, non usiamo la media normale, e anche qua, facciamo tb invoices, aperta quadra, quantiti, ovviamente, non c'è, la, la steri, non c'è la chiocciola, di conseguenza, mi prende tutto quanto, ok, e quindi la media è questo 39,09, che io convertirei in soldi, perfetto, ultima cosa, che vogliamo fare, è calcolare, i revenues, per, tailspin toys, wingtip toys, e terzi, ok, quindi mettiamoci qua, facciamo copia e incolla, occhio perché quando facciamo copia e incolla, di una formula, devo incollarla come formato, perché altrimenti mi prende la formula, ok, quindi, ci metto, tailspin toys, ctrl c, tasto destro, wingtip toys, terzi, ctrl c, tasto destro, terzi, ok, mettiamoci qua magari, abbassiamolo di uno, basta selezionare, e poi trascinare, muovendosi con, nella riga verde, ok, e qua ci mettiamo, ad esempio, revenues, ed utilizziamo, una funzione bellissima, che è, somma più se, ok, che cosa fa il somma più se, allora, con il somma, noi abbiamo sommato completamente, una, una colonna, ok, abbiamo, non so, centomila valori, sommati tutti, top, 93 milioni, adesso noi, gli diciamo, sommami, i valori, nella colonna revenues, ma con una condizione, ovvero, con la condizione, che, la colonna category, sia, tailspin toys, ok, più facile da farsi che adersi, quindi scriviamo, somma più se, ok, il primo argomento, è l'intervallo somma, ok, quindi, l'intervallo somma, è, i revenues, quindi, adesso lui mi sommerà, i revenues, il secondo argomento, è, intervallo criteria, quindi lui mi dice, su che intervallo, devo calcolare, i criteri, e io gli dirò, sulla category, perché adesso gli dico, pre, sommami le revenues, solo se la category, è uguale, a tailspin, ok, cosa importante, tutti questi intervalli, devono avere, la stessa numero di righe, ok, per questo le tabelle, si sposano da dio, con il somma più se, perché, revenues e category, sono sicuro al 100%, abbiano lo stesso numero di righe, ok, quindi, criteri, del spin toys, quindi deve essere uguale ad S7, chiudiamo, e mi ritorna, 29 milioni, mettiamolo magari, così, io qua, quando sono numeri così grandi, ci tolgo sempre, le virgole, perché tanto, non interessano, e adesso, la cosa bella, di averla strutturata così, quindi gli abbiamo detto, no, sommami le revenues, dove category, è uguale ad S7, ma io basta che, trascino in giù, e adesso lui mi dice, ok, questo è 29, questo è 29, e questo è 34, e la somma dei tre, mi dà esattamente, quello che c'è là sopra, ovviamente, però per essere sicuri, ci mettiamo qua, totale, e, essendo che, devo sommare le tre sopra, c'è uno shortcut in Excel, se io vado sul tab home, e ci metto, sommo automatica, lui automaticamente cerca all'interno, all'intorno della mia cella, se ci sono, delle cose che, che può sommare, lui me le trova correttamente, gli diamo ok, e arriva, 93 milioni, ok, allora, questa è la fine del nostro crash course, perché volevo tenerlo sotto un'ora, abbiamo visto un sacco di cose, un sacco di cose difficili, è stato super intenso, me ne rendo assolutamente conto, e, questo non è nemmeno la punta dell'iceberg di Excel, cioè non siamo neanche arrivati, alla base dell'iceberg, ok, però, primo, ci sono talmente tante cose, che ci vorrebbero probabilmente corsi di, non lo so, 85 mila ore, per vedere tutto, ma soprattutto, a mio parere, non serve vedere tutto di Excel, serve entrare nel mindset, essere curiosi, e approfondire, ovviamente, questa qua no, era un corso di un'ora, però se ti è interessato, se ti è piaciuto, se vuoi saperne di più, c'è il corso Excel, su Skillacres, quindi, tu puoi andare lì, su learn.skillacres.it, e vediamo, diciamo, quello che abbiamo visto adesso insieme, solo che è estremamente più dettagliato, e ovviamente, sempre su learn.skillacres.it, puoi trovare anche l'addendum sulle tabelle IPV, perché noi adesso abbiamo fatto un sacco di cose, però non abbiamo visto la mia parte personalmente preferita, che sono le tabelle IPV, e ho creato un addendum apposta, solo ed esclusivamente per quello, assolutamente gratuito, quindi, basta che vai sul sito, ti registri, e puoi accederci gratuitamente. Io ti ringrazio per avermi seguito, spero tu ti sia divertito, io mi sono divertito un sacchissimo, perché, per me, Excel è davvero divertente, e se tu trovi che Excel non ti piace, è semplicemente che non lo hai approfondito abbastanza, quindi, io ti consiglio di studiartelo per bene, perché, qualsiasi sia il tuo lavoro, cioè che tu faccia l'avvocato, il designer, l'ingegnere, ovviamente non ne parliamo, sono sicuro che Excel, avrai a che fare con Excel, sicuramente, te lo chiederanno i colloqui, te lo chiederà il tuo capo, te lo chiederà il tuo cliente, di conseguenza, sapere utilizzare Excel come si deve, è una skill veramente fondamentale nel mondo del lavoro, quindi, io ti consiglio di, appunto, di farti il corso Excel di Skill Hacker, se le persone sono super contente, basta che ti vai a vedere le reviews, e, se ti prendono al tuo lavoro, grazie al corso, mi piacerebbe saperlo, quindi, iscrivimi, e se hai dubbi, perplessità, o qualsiasi cosa, mi puoi scrivere, quando vuoi, su alex.lanaro, chiocciolaskillhackers.it, questo è tutto, ci vediamo ai prossimi corsi, ai prossimi video, e buon Excel, ciao ciao!